da Regione Basilicata Contrassegnati dal numero 99 Francesca Pia Bramieri e Vincenzo Chiaese da Regione Campania Con il numero 17 Giulio Paglini e Emanuele Lazzacci da Regione Campania Con il numero 191 con il numero 19 del Castillo e da Regione Speciale dal Regione Siciliano Non ho sentito l'applauso signori Finale 12-13 classe A Vado Sant'Empo Finale 12-13 classe A Vado Sant'Empo Finale 12-13 classe A Vado Sant'Empo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il vostro quarto palo slow vostro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.